Ciao a tutti, sono Alessandro di Performance Lab e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con The Weeks Review. Questa settimana parleremo del piede. Molto, troppo spesso ignorato, il piede è, come sappiamo, il primo punto di contatto che noi abbiamo, e spesso l'unico punto di contatto che noi abbiamo con l'esterno, ed è assolutamente una struttura di fondamentale importanza per quanto riguarda l'espressione di forza, potenza, il rischio di infortuni. Molto spesso, purtroppo, ci si comincia a concentrare su tutti questi aspetti partendo dall'articolazione della caviglia, scordandoci di quanto la muscolatura intrinseca del piede e la funzionalità, quindi, di questa struttura sia legata a tutti gli aspetti precedentemente enunciati. Bene, andiamo a vedere qualcosina. Purtroppo non potremo parlare di tutto, ci sarebbe da parlare per ore, ma andiamo agli articoli, vediamo un po' quella che è la funzionalità del piede, quali sono gli esercizi migliori per aumentarla e qual è il legame tra piede e l'infortunio. Iniziamo la settimana dedicata al piede con uno studio che ha avuto l'obiettivo di indagare l'influenza di due tipologie di esercizi sulla muscolatura plantare nel piede corto, sulla postura del piede e sui modelli di movimento fondamentali per quanto riguarda i corridori di lunga distanza. Hanno partecipato allo studio 25 runner, di età compresa tra i 22 e i 35 anni, i quali sono stati suddivisi in due gruppi. Nel primo i soggetti hanno svolto il build forward lean e il reverse tandem gait, nel gruppo 2 invece il short foot exercise. Gli esercizi sono stati svolti ogni giorno per sei settimane e sono stati svolti ovviamente dei test tra cui l'FMS e l'FP6, due volte ovviamente prima e dopo al termine del periodo di analisi. È stato visto un miglioramento nel test specifico per il piede, sia per quanto riguarda la palpazione della testa dell'astragalo e in versione e versione del cancagno nel gruppo 2, quindi in entrambi i gruppi. Anche nel primo gruppo invece è stato visto anche un miglioramento significativo nel test FMS, precisamente negli esercizi del deep squat, nell'aclips thread lace e nel punteggio ovviamente quindi totale. Quindi si conclude che entrambi ovviamente gli esercizi, in entrambi i gruppi gli esercizi hanno migliorato la funzionalità del piede, quindi hanno migliorato la funzionalità della muscolatura plantare e la postura dei soggetti. Secondo studio della settimana che analizza invece gli effetti del posture su piede piatto, piede pronato e supinato e la stabilità posturale dinamica. Sappiamo che il piede rappresenta una base di appoggio piccola in realtà, su cui il corpo mantiene il nostro equilibrio. Sembra ragionevole pensare che alcune alterazioni biomeccaniche nella superficie di appoggio siano in grado di influenzare le strategie di controllo posturale, però purtroppo ad oggi la letteratura, e lo posso confermare io avendola ricercata, avendola approfondita in questa settimana, non ha indagato in maniera così approfondita le implicazioni di un piede iper o ipomobile e quelle che sono appunto le implicazioni sull'equilibrio. L'obiettivo di questo studio era di determinare se i piedi supinato e pronato influenzassero le misure di equilibrio statico e dinamico. I partecipanti sono stati assegnati a tre gruppi, ovviamente in base alla tipologia di piede, come potete leggere, e sono state analizzate le misure di equilibrio statico e dinamico. Non sono state trovate differenze nel centro di equilibrio o nell'oscillazione posturale in funzione del tipo di piede. L'indice di stabilità era maggiore nei pronatori che nei supinatori, ma nessuno dei due gruppi era in realtà diverso da quelli con il piede neutro. La portata dinamica differiva tra i gruppi, ma solo in alcune direzioni. In generale i pronatori raggiungevano di più nelle direzioni anteriore e mediale e i supinatori raggiungevano di più nelle direzioni posteriore e posterolaterale, ma nessuna direzione, nella direzione, scusatemi, laterale, i supinatori raggiungevano più lontano dei pronatori, ma non più lontano dei neutri. Food core system, terzo studio della settimana, che analizza un nuovo paradigma per comprendere la funzionalità dei muscoli intrinseci del piede. Sappiamo che il piede è una struttura complessa, con molte articolazioni e diversi gradi di libertà, questo l'abbiamo già visto nello studio precedente, e chiaramente sono importanti le implicazioni sia nella postura statica che nelle attività dinamiche. Lo sviluppo evolutivo dell'arco plantare coincide con diverse esigenze, ovviamente queste che aumentano, poste agli esseri umani da quando hanno iniziato a correre, e il movimento e la stabilità dell'arco plantare sono controllate dai muscoli estrinseci e intrinseci. Questa è la premessa dello studio. Purtroppo i muscoli intrinseci del piede sono ampiamente ignorati, nella letteratura, e allo stesso modo raramente affrontati nei programmi di riabilitazione. Gli interventi per i problemi legati al piede sono spesso diretti a sostenere esternamente il piede, piuttosto che allenare questi muscoli a funzionare per come sono stati progettati. Cosa si deve fare quindi secondo i ricercatori? È necessario allenare il foot core system, è necessario allenare e eseguire esercizi per lo short foot, e quindi concentrarsi per quanto riguarda la riabilitazione sui muscoli plantari intrinseci del piede, per quello che chiaramente è la loro implicazione non soltanto sulla stabilità statica e dinamica, ma in generale su quello che è la performance, il rischio di infortunio e quindi la funzionalità in generale del soggetto. Ancora, andiamo avanti, in questo studio si analizza l'influenza diretta dell'allenamento del calcio, quindi andiamo a prendere il contrario, quindi si analizza quello che è l'effetto di un allenamento di calcio sulla stabilità posturale e sui modelli di andatura, e se questi in qualche maniera fossero legati all'età. Quindi, quello che è stato visto è che l'allenamento e la giovane età si correllano da una diminuita stabilità posturale, si ha un aumento significativo della pressione di picco post allenamento nelle aree precedentemente più caricate, e raggiunto a una certa età e grandezza dei valori assoluti, un cambiamento nella fase terminale di stress e di stanza, scusatemi, e di preswing nel rollover, in esercizi nel movimento di rollover, di roll out. I giocatori più giovani hanno una distribuzione più disomogenea della pressione plantare statica, che ovviamente è legata e può essere risultato del diminuito controllo posturale nella giovane età, legata allo sviluppo e quindi a vari cambiamenti che stanno avvenendo nel soggetto, e che chiaramente possono portare a delle perturbazioni momentanee legate appunto alla fase di sviluppo. Ultimo studio della settimana, che analizza ancora i muscoli intrinseci del piede, e quello che è l'effetto di questo allenamento sull'arco mediale longitudinale e la stabilità della caviglia, e in generale quindi del soggetto, in pazienti che avevano subito, che avevano problemati alla caviglia, quindi cronica e con sprain, quindi che subivano diciamo con storia cronica di distorsione di caviglia, e che fossero anche accompagnati da pronazione del piede. Quindi i soggetti che hanno partecipato allo studio avevano tutti quanti il piede pronato, sono stati assegnati al cosiddetto esercizio per il short foot, o al gruppo di esercizi per il carl con l'asciugamano, in modo casuale. Il primo e il secondo gruppo sono stati sottoposti ad esercizi tre volte a settimana per otto settimane, con tre serie al giorno, per un totale di cinque minuti. Sono stati svolti diversi test per valutare la stabilità della caviglia e la funzionalità del piede. È stato visto che questa stabilità della caviglia è migliorata per quanto riguarda gli esercizi del piede corte, lo short foot, mentre nel test di caduta navicolare i punteggi sono diminuiti in entrambi i gruppi, ma nel primo gruppo di esercizi, quindi negli esercizi dello short foot maggiormente. Quindi, gli esercizi dello short foot sono più efficaci, come si vedeva anche nel terzo studio sul foot core system, per quanto riguarda l'allenamento dei muscoli intrinseci del piede, per quanto riguarda pazienti con distorsione cronica di caviglia e che possiedono, e che purtroppo hanno una pronunzione accentuata del piede. Questi esercizi possono essere inoltre utilizzati, ci verrebbe da aggiungere in tutti i soggetti, per fornire stabilità alla caviglia. Come ogni settimana abbiamo ricercato gli articoli più interessanti su una determinata tematica. Vi avevo già avvisato che non saremmo stati esaustivi, sarebbe stato impossibile, ma devo anche dire che la letteratura non è particolarmente presente su questo argomento. Spero, nonostante ciò, che vi sia piaciuto questo video e vi invito a lasciare un like. Potete trovare gli articoli di cui abbiamo parlato nel link qua sotto al blog, come sapete benissimo, assieme a tutti quanti i nostri altri articoli e le nostre sezioni scientifiche. Vi invito a mettere un mi piace al canale, ad attivare la campanella, e quindi seguirci e non perdervi tutti i contenuti del canale YouTube di Performance Lab. Un saluto, ci vediamo alla prossima The Weeks Review. A presto, ci vediamo alla prossima.